Inzi, quello che ti guardo è l'alieno, mai più, paura, cosa hai avuto? Ah, che tu hai avuto l'emozione? E vi ricordo anche, cioè, la trucca bimbi, quindi se ci sono dei bambini qui, non perdete l'occasione, se siete bambini dentro non perdete l'occasione ugualmente, trucca bimbi! E' tutto gratuito! Dici settesima e ultima serie, corsia 2, schienuoto, decchino, riempio! Corsia 3, dalla Fondazione Vente Godi, Turina, Marco! Corsia 4, dalla Ginnasio Stato...